La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomesticassi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra e il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi, guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu, hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Avete capito chi sta parlando? Non l'avete capito? Vuol dire che non avete letto Il Piccolo Principe? Andate subito a leggerlo. Allora, perché vi sto parlando del Piccolo Principe? Per prima cosa perché, essendo una scrittrice, devo avere un libro preferito e il mio preferito è questo. Senza ombra di dubbio perché l'ho letto più volte, il che è raro che io legga un libro più di una volta. È molto piccolino, come potete vedere. Quando vi capita quei momenti di depressione in cui gli insegnanti vi dicono Leggete un libro velocemente! Potete sempre utilizzare questo come scappatoia, anche se non ve lo consiglio troppo perché se un professore è un po' cattivo e dice Ah, hai letto Il Piccolo Principe perché era corto! Bene, adesso spiegamelo tutto! Ci diventate matti, però possiamo provarci. In realtà non è così impossibile. Non ve lo consiglio di leggerlo se siete troppo troppo giovani perché è un libro che va apprezzato con gli anni. Io l'ho letto la prima volta per i miei 18 anni e l'ho riletto qualche anno dopo, probabilmente lo rileggerò adesso che ce l'ho tra le mani. E non è che io vado in giro con una maglietta con Il Piccolo Principe e La Volpe sopra, no? Che per la cronaca La Volpe è il personaggio che stava parlando nel pezzo che vi ho letto. Se anche a voi piacciono le magliette di questo tipo che a me personalmente mi è piaciuta appena l'ho vista vi lascio una cosina qua su in alto che magari potrebbe farvi comodo e anche uno sconto del 15% caso me mi interessasse. Comunque, a parte questo, Il Piccolo Principe è il mio preferito perché parla di concetti che secondo me sono molto belli. Per esempio il fatto che La Volpe vuole farsi addomesticare ma non si intende un animale che da selvatico diventa più mansueto si intende addomesticare nel senso affettivo del termine. È quella cosa che fai con le persone a cui vuoi bene, ti fai addomesticare ovvero nutri per loro delle attenzioni e dei comportamenti particolari ed è quello che vi ho letto finora. E poi c'è anche tutto il discorso della rosa. Ora qui nell'illustrazione non c'è, la rosa non è che parli molto, parla ogni tanto, capiamoci, Il Piccolo Principe nel suo paese d'origine ha una bellissima rosa di cui si è preso cura fino a quando era un seme e all'inizio non riesce a capire che differenza c'è tra la rosa che c'è nel suo pianeta e quella che poi vede sul pianeta Terra perché sul pianeta Terra è pieno di rose e lui dice ma allora io credevo che la mia rosa fosse speciale invece scopo che qui ce ne sono a migliaia e l'Iperi non capisce che ciò che la rende speciale è il fatto che lui ha curato quella rosa fino al primo istante mentre quelle sono soltanto rose uguali alla sua ma che non possono assolutamente agire il confronto. della stessa cosa quando uno può dire di persone ce ne sono tante ho tanti compagni di classe però come sei tu importante per me che sei un migliore amico, la mia migliore amica non c'è nessuno. Devo dire che io ci sono abbastanza fissata con questo libro fin dal primo momento in cui l'ho letto perché è pieno di concetti belli praticamente inizia la storia con questo avviatore che è Antoine de Saint-Experie perdonatemi se l'ho pronunciato male che precipita nel deserto e incontra il piccolo principe che è riduce di un sacco di viaggi in giro per il mondo anzi per l'universo in cerca di persone con cui confrontare le sue esperienze e la terra è solo uno dei tanti pianeti che il piccolo principe ha visitato e ogni personaggio che il piccolo principe incontra rappresenta qualcosa un vizio o un'abitudine che una persona può prendere durante la sua vita e veramente ragazzi leggete, datemi retta non è che io oltre alle magliette mi compro anche le agende a tema no, non è che la mia agenda è a tema piccolo principe con tutti gli disegnini fatti apposta assolutamente no in realtà ora che ci penso ho anche la versione mini che è di mia mamma ve la faccio vedere subito guardate che cosa microscopica che è questo oggetto guardatelo rispetto alla mia mano quanto è piccino, mi sta tutto sul palmo e c'è tutto il testo completo come nella versione originale grande proprio è tutto completo fin dall'inizio alla fine guardate, è anche abbastanza leggibile in realtà e ci sono anche le illustrazioni, quelle originali ovviamente molto rimpicciolite perché non è che potevano entrarci tutte esattamente come erano ed è uguale a quello vero io lo trovo una cosa stupenda, è una miniatura deliziosa secondo me la domanda che forse vi state facendo è per quale motivo ci sta raccontando il piccolo principe semplicemente perché non so se qualcuno di voi vuole provarci entra nel mondo della scrittura come sto facendo io che sto cercando lì con le unghiette di farmi la fossa da sola di scavarmi, di entrarci dentro, di sperare di diffondermi e prosperare come la rosa del piccolo principe appunto che entra nel terreno e diventa una pianta però penso che avere un libro preferito da quittà di ispirazione sia una cosa fondamentale perché io ho letto tantissimi libri e se vi dico che questo è il più bello che abbia letto potete magari darvi un po' di fiducia e leggerlo a vostra volta perché secondo me ci sono dei belli insegnamenti da potete trarre purtroppo è magari un libro un po' corto quindi a scuola difficilmente ve lo faranno leggere perché c'è un po' il discorso che se un libro è troppo corto non ha abbastanza significati il che non è vero, uno dei libri per esempio di cui vi vorrei parlare un'altra volta è il Gabbiano Jonathan Livingston non so se lo conoscete, mi fu regalato alle superiori dove parla di questo gabbiano che vuole imparare a volare non soltanto per cacciare ma anche per bellezza e anche lì è tutta una metafora di quando uno vuol cercare di inseguire i propri sogni anche se le persone intorno a te ti scoraggiano e sono libri brevi perché non si può fare un libro intenso e allo stesso tempo troppo lungo secondo me ci sono per forza dei punti descrittivi un po' morti se si scrive tanto e questi invece sono ovviamente tutto il contrario sono piccoli e molto intensi io vi consiglio fortemente di leggerlo se non siete troppo giovani e di dirmi che cosa ne pensate se invece l'avete letto vorrei che voi mi diceste che cosa ne avete tratto, che insegnamenti vi ha dato se vi è piaciuto perché potrebbe anche non piacere vi conosco persone che non è piaciuto come si fa ad amare il piccolo principe il libro più bello che esista comunque a parte questo vorrei chiedervi una cosa se vi fa piacere come idea mi piacerebbe portare una rubrica letteraria in cui ogni tanto parlare dei libri che leggo e delle mie impressioni perché a volte magari qualcuno tra di voi dice ma non so che cosa leggere in questo periodo mi hanno detto leggi qualcosa oppure voglio leggere ma non so bene che cosa vado in libreria e sono un po' confuso perché tutto sommato non so bene meno cosa sto cercando se volete io ho tipo una stanza piena di libri ma così è nel senso che tra un po' vado fuori di casa io per fare spazio ai libri se volete visto che finalmente mi sono tornati dalla mia vecchia vita tutti i libri che avevo lasciato tipo Cime Tempestose tipo un sacco di libri di Agata Cristi varie raccolte anche libri di fiabe se volete se vi interessa posso iniziare una piccola rubrica in cui parliamo di libri ho deciso di cominciare da questo perché non trovo un libro migliore con cui cominciare vi dico soltanto che su Whatsapp il mio messaggio personale è l'essenziale è invisibile agli occhi che è una frase anche questa presa da qui che ho citato anche nel mio Young Adult Novel che spero esca prima o poi sto cercando una casa di esigenza che mi calcoli c'è un punto in cui il protagonista Tommaso ve lo ricordo parlando di una cosa che vi è successa e riflettendosi sopra dice è proprio vero che l'essenziale è invisibile agli occhi poi scoprirete che cosa sentiva questa citazione perché secondo me ci sta a meraviglia detto questo io vi consiglio fortemente di leggervi questo libro se non l'avete ancora letto di solito si regala magari ai bambini o qualcosa del genere a me per esempio non l'ha regalato nessuno me lo sono comprata da sola comunque ve lo consiglio leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate se invece non me ne fega niente di leggere ma vi piacciono le agende esistono anche le agende se invece non ve ne fega neanche delle agende perché sia legge che scrivi fa schifo ci sono comunque le magliette che sono belle io penso che questa maglietta me la metterò tutte le volte che avrò l'occasione di farlo anche se ormai se chiamassimo gente come Carla Gozzi Enzo Micio mi insulterebbe ah beabbè a tua età metti questa maglietta da nerd si le metto le metterò sempre capito detto questo io vi ringrazio per essere con me fino a questo momento vi lascio tutti i link che vi possono interessare in descrizione perché la descrizione è un mondo magico e ci sono i piccoli principi che ci camminano dentro quindi attenzione se ne vedete uno magari cercate di parlargli ma gentilmente perché il piccolo principe è una creatura molto dolce ed è delicata non bisogna avvicinarsi con la cattiveria bisogna avvicinarsi dolcemente come hanno fatto la volpe e la rosa grazie a tutti alla prossima con la rubrica di chi ha i libri che forse potrebbe continuare forse no dipende da voi e te ne va ciao e mi raccomando attenzione alle rose perché parlano e poi dicono un sacco di cose ciao 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 ciao